Un po' di andropausa e ne posso parlare legittimamente assieme ad Andrea Lenzi, professore ordinario di endocrinologia alla Sapienza di Roma, e poi Caterina De Luca, ginecologa al Fatebene Fratelli di Roma, e parliamo ovviamente di menopausa. Allora, qual è l'età che, professor Lenzi, riguarda le donne e gli uomini? Beh, è un'età praticamente identica, cioè nel senso che fra i 45 e i 50 anni, sappiamo, e questo è abbastanza evidente perché poi ne riparleremo sicuramente, dall'interruzione dei cicli, la donna entra in menopausa, ci sono alcune che sono più anticipate, ma quella è una menopausa precoce, quindi è certamente patologica, tra i 45 e i 50, dicevo, per la menopausa, e altrettanto per l'uomo inizia la cosiddetta andropausa. Se le dovessi dare la risposta che esiste l'andropausa, la risposta è no, perché non c'è nessuna pausa, non si interrompe nulla, ma c'è un continuo declino che inizia più o meno alla stessa età. Allora, per le donne il segnale è chiaro, l'assenza di ciclo mestruale, invece nell'uomo quali sono i segnali di questo inesorabile declino? Di questo inesorabile declino i segnali sono purtroppo, devo dire, piuttosto sfumati e anche poco sentiti dal paziente, dal soggetto, perché non è un paziente. Stanchezza, irritabilità, più facilità di affaticamento, qualche difficoltà sessuale, attenzione, qualche difficoltà sessuale non calo della libido, non calo del desiderio, e quindi questo spesso compensa, quindi se ne accorge anche di meno, e poi anche un graduale perdita purtroppo di alcune capacità cognitive, soprattutto a livello di memoria, che però fortunatamente compensiamo con altri meccanismi, vista l'esperienza dei primi 45 anni. Quindi è proprio per questo che tutti questi sintomi sono abbastanza sfumati e uno spesso e volentieri attribuisce alla stanchezza, all'affaticamento. Sempre colpa dello stress. Quando uno entra in una stanza e dice, aspetta, che sono entrato a fa, non mi ricordo. Esatto, è colpa dello stress. Io quando dico che i medici che dicono che è colpa dello stress, vuol dire che non sanno fare i medici, e che non sanno cosa dire. Posso, professore, io addio, uno invecchia, già è un privilegio poter invecchiare. Parliamo invece della menopausa. Io ricordo mamma che diceva che aveva le vampate. Ci sono tre fasi, mi dicono. Esatto. La menopausa è una delle tre fasi che fanno parte del climaterio. Il climaterio è un periodo che dura dai 7 ai 10 anni, colpisce la donna dai 45 ai 60 anni, ed è costituito da tre fasi, appunto. La perimenopausa, la menopausa e la postmenopausa. La perimenopausa è dove si hanno, appunto, le vampate, i primi sintomi, alterazioni del ciclo mestruale. Poi abbiamo la menopausa, che è un momento esatto e corrisponde proprio all'ultima mestruazione. E dopo la postmenopausa, che sarebbe il periodo che va dopo un anno dall'ultima mestruazione. Nell'immaginario collettivo la menopausa è molto più impegnativa dell'andropausa. Devo dire, purtroppo, come abbiamo detto prima, lo dico purtroppo per la donna, perché ovviamente la collega ha ben descritto tutta una serie di sintomi e di fastidi. E lo dico purtroppo per l'uomo, perché l'uomo, appunto, se ne accorge molto di meno. In realtà, l'andropausa è un periodo di graduale perdita di funzione legata al calo graduale del testosterone che inizia addirittura intorno ai 40 anni. Tutto questo ha un motivo. Noi siamo ancora figli di quei Out of Africa di 100.000 anni fa, che sapiens, che sono usciti e hanno colonizzato il mondo, potremmo dire i me, visto, e che ci hanno portato un graduale modifica del nostro stile di vita. Però oggi noi siamo ancora figli di quelli là. Quindi il declino si affronta facilmente, invece in questo caso proprio c'è un giro di boa per quanto riguarda la donna. Ormai si sa, se ne è parlato, non ci sono più cose per sentito dire. Però qual è il modo migliore per affrontarla, dottoressa? Allora, diciamo che un atteggiamento positivo è sempre il modo migliore per affrontare qualsiasi cambiamento nella vita di una donna, sia essa prima che dopo la menopausa. Quindi cercare di avere consapevolezza di quello che sta accadendo, riconoscere i primi sintomi, magari parlarne anche con le donne della propria famiglia, con le amiche che hanno avuto gli stessi problemi, e poi affidarsi allo specialista in modo da trovare una terapia opportuna per cercare di ridurre i sintomi. Ma ci sono dei fattori che la accelerano? Diciamo di sì. È stato visto che oltre alla menopausa precoce, che può avere una certa familiarità, o la menopausa iatrogena, appunto dovuto a un intervento chirurgico o radiochemioterapico, che ha ridotto la funzionalità ovarica, è stato visto che sia il fumo che l'alcol può aumentare il rischio di avere una menopausa prematura. E che rapporto c'è con la tachicardia? Sì, c'è un rapporto, la tachicardia soprattutto durante la notte è uno dei primi sintomi che si manifestano durante la menopausa, ed è dovuto proprio a un repentino calo degli estrogeni. Quindi diciamo che bisognerebbe in questo momento evitare delle sostanze eccitanti, quali può essere l'utilizzo spasmodico di caffè o l'alcol la sera prima di andare a dormire, idratarsi per bene e cercare di praticare delle attività rilassanti, quindi lo yoga o la meditazione ad esempio. Vale anche per gli uomini? Vale in parte. Quella riduzione graduale del testosterone di cui parlavo prima provoca anche alterazioni del ritmo cardiaco, però è molto ancora una volta molto meno significativo e come diceva la collega, essendoci tanti fattori ambientali e di stili di vita che inducono le tachicardie notturne, lo stress di cui parlava prima lei, ma anche cose più significative tipo il caffè, l'alcol, la sedentarietà e tante altre cose. Difficile identificare quei tachicardie. Se me ne va il caffè io non campo più però. Ma non glielo levo assolutamente. È inutile prendere più di tre al giorno perché salatori tutti i recettori cerebrali. A più di tre al giorno? Salatori tutti i recettori cerebrali e non serve più. È solamente il gusto. Allora non ti vale prendere il caffè. Sono 10 o 5, io già sto a 6 caffè. Per cui effetti collaterali quali sono? Del caffè o qualcosa? No, no. Andropausa e menopausa. Effetti collaterali purtroppo sono molto gravi nel senso che come dicevo prima siccome noi eravamo programmati per riprodurci a 15-20 anni e morire molto prima dei 40-50 infatti si diceva ti amerò per sempre ma si moriva prima. Ma questo anche molto prima quando eravamo ancora sapiens appena usciti dall'Africa tutto sommato gli effetti collaterali non c'erano. Adesso purtroppo ci sono perché il callo del testosterone e come dirà certamente anche la collega il callo degli estrogeni e quindi la fine dei cicli provoca aumento delle patologie cardiovascolari obesità, diabete e tante malattie di tipo metabolico più le solite insonnie a callo della forza di cui parlavamo prima. Ecco, c'è la famosa fiacca. Parliamo di prevenzione. A partire da qual'età dovremmo incominciare a famigliazzare con l'andrologo? Se me lo chiede così io li dico da zero anni. Allora mi dica come glielo devo chiedere. No, nel senso che già il bambino No, mi dica come glielo devo chiedere. Nel senso che il bambino dovrebbe essere visto subito da un andrologo appena nato. Alla pubertà dovrebbe essere ricontrollato per lo sviluppo sessuale così come fanno molto bene le donne che vanno dalla ginecologa all'età puberale per vedere se le prime mestruazioni in questo caso per vederne nel nostro caso se lo sviluppo puberale è buono ai fini dell'andropausa dai 40 anni in poi. Questa era la risposta. Non mi guardi però. No, per l'amore di Dio. Lei è un trentenne che si vede benissimo. Eh? Lei è un trentenne che va benissimo. Solo io le voglio bene non la abbraccio un bacio perché abbiamo questa confidenza. Per le donne si sa invece i controlli devono essere... Sì, diciamo che è consigliato sempre regolare il controllo dallo specialista. Dopo la menopausa va bene il controllo annuale. Ovviamente se ci sono dei sintomi che allertano la paziente quali soprattutto delle perdite di sangue vaginali bisogna anticipare il controllo. Allora, telegraficamente osteoporosi ha a che fare con andropausa e menopausa? Sì e no? Sì, perché il calo del testosterone degli estrogeni rigiurse la massa ossea. E il sovrappeso invece? È una conseguenza della menopausa purtroppo. Il calo degli estrogeni l'aumento dell'età determina un aumento del grasso viscerale. Marocchi, forse è tempo che tu faccia una visitina perché i trenta li hai superati. Li ho superati. Grazie per il consiglio di Berio e però parliamo anche di coppie.